Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Roma rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello e tra la variante di Valico e Calenzano. In direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico. Sulla FIPILI per lavori rallentamenti in direzione Firenze tra Montelupo e Ginestra Fiorentina e in direzione mare tra Lastra, Signa e Ginestra. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11. Tutte le info sui nostri canali social. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!